Jack, l'ombra di un ragazzino triste perché perseguitato da un gruppo di bulli, decide di staccarsi dal suo umano per trovare il modo di aiutarlo e per scoprire se stesso sfidando la maledizione che lo vieta. Trova la sua avventura a bordo di un veliero dove con la complicità di una nuova amica. Avrà a che fare con un tesoro, dei pirati e lo spirito della luna. Il suo viaggio fantastico gli permetterà di aiutare il suo umano e riportare la giustizia e la serenità? Ricordate, non servono le luci della ribalta per fare grandi cose. A volte è meglio restare nell'ombra per riuscire a cambiare anche solo un piccolo pezzettino di mondo. Grazie per la visione!